nasce un nuovo format televisivo ogni giorno su calabria tv e telespazio tv figli delle stelle che vedrà voi spettatori coinvolti in prima persona volete fare un viaggio attraverso i pianeti gli astri conoscere il significato dei vostri sogni l'affinità di coppia il vostro ascendente mandateci le vostre mail scriveteci risponderemo a tutti figli delle stelle sta per arrivare nelle vostre case vi aspetto